Amici e amiche di Vini di Casagiove, buonasera, eccoci di nuovo insieme. Quest'oggi andrò a realizzare una torta molto particolare, la torta Charlotte. La torta Charlotte deve il suo nome alla regina Carlotta, moglie del re d'Inghilterra Giorgio III. Come prima cosa andrò ad immaggere questi savoiardi e la bagna che ho realizzato con acqua, zucchero e limoncelero. Mi raccomando questo procedimento deve essere abbastanza veloce, altrimenti realizzeremo un biscotto troppo bagnato e quindi la consistenza non sarà giusta poi. Una volta completato tutto lo strato di savoiardi, il primo strato, possiamo passare alla crema. Ho voluto realizzare questa crema pasticcera con cioccolato bianco. Ho voluto realizzare questa crema pasticcera con cioccolato. Una volta completato il primo stato di crema, bisogna avanzare con gli altri strati e questo sarà il risultato finale. Noi abbiamo voluto velocizzare i tempi e quindi abbiamo pronto un'altra torta. Passiamo adesso alla decorazione finale con panna e fragole. Ciao! Ed ecco la torta completata. Non mi resta che augurarvi buona degustazione. Grazie a tutti.